Salve a tutti i telespettatori di TV Ciscan. Questo video è dedicato a una questione piuttosto complessa che è stata approvata da pochi giorni da parte del Parlamento europeo e ha suscitato notevoli polemiche. La questione si riassume in poche parole. Il Parlamento europeo ha deliberato uno stanziamento di 20 milioni di euro a Rwanda, in particolare all'esercito del Rwanda, che sta in questo momento dal luglio del 2021 a Cabo Delgado, quindi nel nord del Mozambico, appunto col suo esercito per supportare il Mozambico nella lotta al terrorismo. Ricordo che la lotta, che i primi attacchi terroristici in Mozambico sono cominciati il 5 ottobre del 2017 nel nord, quindi a Cabo Delgado, e da quel momento la situazione non si è più stabilizzata fondamentalmente. Il Rwanda è entrato appunto a luglio del 2021 e in poche settimane ha riuscita a riconquistare Mossimba da Praia, che è una città importante di Cabo Delgado, che per circa un anno era stata nelle mani appunto dei gruppi jihadisti che hanno una connotazione etnica locale molto chiara e che col tempo sono stati poi sostenuti anche da Isis Mozambico. Perché a un certo punto l'Unione Europea decide di stanziare tutti questi soldi, cioè 20 milioni di euro, e darli direttamente all'esercito del Rwanda e non all'esercito del Mozambico o anche all'esercito della SADEC. La SADEC è la Southern Africa Development Community, che anch'essa ha inviato subito dopo l'arrivo delle truppe del Rwanda un esercito raccolto da vari paesi di questa organizzazione, di cui il Mozambico è uno degli stati fondatori. La risposta è abbastanza complessa. È abbastanza complessa perché il Rwanda è un paese noto come violatore dei diritti umani. La democrazia in Rwanda è un'ipotesi, diciamo, più che una realtà. Tenete presente che nel 2017, Paul Kagame, che è l'uomo forte appunto del regime di Kigali, è stato eletto per la terza volta per un mandato presidenziale di sette anni, col 99% dei voti e con un'affluenza del 98%. Ci sono report un po' di tutte le organizzazioni, io ne cito uno di Amnesty International del 2021, che mette l'accento su tutte le limitazioni del regime di Kigali alla libertà di espressione, agli arresti di blogger e giornalisti. A ottobre 2021, per esempio, sei persone del partito di opposizione sono state arrestate. Sono in carcere in questo momento una decina di donne che hanno deciso di fare l'aborto. L'aborto è ancora illegale in Rwanda. C'è una persecuzione anche contro la comunità LGBT e c'è anche una caccia ai profughi politici del regime di Kigali, portanto del Rwanda, in vari paesi. Per esempio in Sudafrica sono stati uccisi negli anni recenti alcuni di questi dissidenti politici e la stessa cosa è avvenuta nel 2021, quindi immediatamente dopo l'entrata del Rwanda a Cabo Delgado, anche in Mozambico. Per cui questa situazione è una situazione nota alla comunità internazionale. Però nonostante questo l'Unione Europea ha deciso di concedere questi 20 milioni di euro direttamente all'esercito del Rwanda. C'è stata una sola voce dissonante nel Parlamento europeo che è stata quella di Mary Arena. Mary Arena è una deputata belga del gruppo del Partito Socialista europeo che evidentemente conosce piuttosto bene la situazione del Rwanda ma anche quello che il Rwanda, con ogni evidenza, sta facendo in Congo. Il Rwanda confina col Congo, con la parte orientale del Congo, ormai da anni, da circa il 2012, un gruppo terrorista che si chiama M23, formato in prevalenza da Tutsi del Congo, quindi lo stesso gruppo etnico presente in Rwanda, sta destabilizzando appunto il Congo. E poche settimane fa addirittura il gruppo M23 ha raggiunto la città di Goma, che è una delle città più importanti del Congo, forzando 180.000 persone a evacuare, quindi a lasciare la città. Kagame ha sempre negato un coinvolgimento del Rwanda e dell'esercito del Rwanda per finanziare e sostenere il gruppo M23, ma ci sono report anche delle Nazioni Unite che provano in maniera abbastanza evidente che ci sono questi rapporti abbastanza stretti fra il governo di Kigali e il gruppo M23, che ripeto, è un gruppo terrorista che sta scompaginando un paese, il Congo, che ha già problemi molto significativi di per sé. Per cui la deputata Mary Arena ha protestato formalmente nel Parlamento europeo sia per la poca... come dire... perché non si capisce perché l'Unione Europea abbia dato soldi direttamente a Paul Kagame per la missione in Mozambico, ma anche perché lei è preoccupata con la situazione del Congo perché nessuno potrà effettivamente certificare che questi 20 milioni andranno effettivamente a sostenere le truppe del Rwanda in Mozambico, in questo momento circa 2.500 effettivi, visto che questi soldi potrebbero anche in teoria andare ad alimentare e quindi a finanziare il gruppo terrorista M23, quindi questo sortirebbe esattamente l'effetto contrario di quello che la delibera del Parlamento europeo vorrebbe raggiungere, cioè la lotta al terrorismo. I motivi di questa scelta sono motivi tutti politici. Il primo è che l'esercito mozambicano gode, e il governo anche mozambicano in questo momento gode di un prestigio piuttosto basso davanti appunto alla comunità internazionale. Anche se l'Unione europea ha stanziato recentemente 89 milioni di euro per un programma di training, quindi di formazione dell'esercito mozambicano, però ci sono stati episodi molto significativi che hanno fatto storgere la bocca alle istituzioni comunitarie e internazionali. Ad esempio, nel 2021 sono stati scoperti circa 7 mila soldati fantasma nell'esercito mozambicano, ossia soldati che non esistono. I soldi provenienti da varie fonti, fra cui dalla Total, che è un investimento enorme di gas in Cabo Delgado, sono andati a ingrossare le tasche di alti ufficiali dell'esercito mozambicano. Quindi, diciamo, le pratiche di corruzione sono all'ordine del giorno. Inoltre, lo stesso esercito mozambicano gode di una fama pessima proprio a livello operativo, perché sono ormai note le sconfitte epocali anche di questo esercito di fronte appunto agli attacchi jihadisti. Ho ricordato prima appunto che la città di Mosimba da Praia che è molto vicina all'investimento della Total che ha sospeso l'investimento nel gas a Cabo Delgado a causa appunto degli attacchi terroristici. Questo esercito ha perso la città di Mosimba da Praia che, ripeto, per un anno è stata nelle mani dei jihadisti e al contrario l'esercito ruandese ha impiegato una settimana per riconquistarla. Quindi anche questa inefficienza oltre alla corruzione presente nell'esercito mozambicano certamente hanno deposto a sfavore appunto di un finanziamento diretto all'esercito mozambicano. Uno si potrebbe chiedere anche perché non dare questi soldi alla SADEC quindi alla Southern African Development Community che è presente con un contingente a Cabo Delgado in aree diverse rispetto a quelle dell'esercito ruandese. Beh, qui la questione è tutta politica. La SADEC è un'istituzione sovranazionale abbastanza fragile attraversata da contrasti all'interno dei singoli stati piuttosto significativi soprattutto fra Mozambico Africa del Sud e Tanzania per tutta questa partita di lotta al terrorismo ci sono stati dei contrasti diplomatici molto importanti e quindi probabilmente la decisione del Parlamento europeo di non dare questi soldi direttamente alla SADEC può essere spiegata anche in questo senso oltre alla inefficienza sul terreno della missione della SADEC che si chiama Samin che anche questo ha registrato appunto diversi insuccessi rispetto alle imboscate dei guerriglieri jihadisti che è bene dirlo sono sostanzialmente usciti dalla zona di controllo dell'esercito ruandese quindi nei tre distretti Macomia Palma e Mossimbo Adapraia che sono i distretti più vicini ad Afungi dove c'è il campus della Total quindi interessi francesi appunto questi a parte questi tre distretti poi il terrorismo si è diffuso un po' a macchia di leopardo in tutti gli altri distretti di Cabo Delgado e anche al nord della provincia di Nampula dove fra l'altro una suora italiana è stata pochi mesi fa trucidata appunto da uno degli attacchi terroristici per cui la situazione è estremamente complessa e il Rwanda sta emergendo a livello continentale come uno dei players più importanti per stabilizzare per così dire situazioni di crisi politico-militare per esempio lo ha fatto nella Repubblica Centroafricana nel 2020 e di solito lo fa con accordi bilaterali anche in Mozambico l'entrata delle truppe del Rwanda è avvenuta dopo che nel 2018 era stato firmato un primo accordo bilaterale sulla sicurezza fra i due paesi che è stato poi rafforzato da un accordo recente sempre bilaterale firmato nel 2022 probabilmente questa filosofia di intervento fa comodo all'Unione Europea e soprattutto ad alcuni paesi dell'Unione Europea io vorrei ricordare che la Francia ovviamente ha enormi interessi in Mozambico appunto con questo investimento di gas e che l'intervento delle truppe di Chigali a Cabo Delgado è venuto pochi mesi dopo un incontro triangolare a Parigi fra Macron Gnussi che è il presidente del Mozambico e Kagame che appunto è il presidente del Rwanda e inoltre la Francia in questi ultimi mesi è entrata in modo molto consistente in Rwanda per esempio ha aperto un centro culturale francofono investendo 650 mila euro insieme ad altre misure di soft power molto care a regime di Chigali per esempio Macron ha ammesso la responsabilità francese rispetto al genocidio dei Tuzzi del 1994 e questo naturalmente si è poi tradotto in finanziamenti appunto direttamente allo Stato allo Stato ruandese finanziamenti anche diretti dell'Unione Europea per esempio nel maggio del 2022 attraverso l'European Union Multinational Indicative Program il Rwanda ha ricevuto per il triennio 21-24 260 milioni di euro per i settori di educazione sviluppo e così via anche l'Inghilterra ha celebrato un accordo bilaterale poco tempo fa è stato uno degli ultimi atti di politica estera di Boris Johnson sono appunto con Rwanda per cui diciamo che Rwanda sta diventando un player importante che le potenze europee e in questo caso anche la stessa Unione Europea usano per risolvere alcune partite di grande interesse economico e geopolitico e naturalmente l'interesse del gas a cavo del gado è un interesse innanzitutto francese perché la Total ha un investimento enorme di circa 30 miliardi di euro appunto ad affungi ma anche inglese perché l'acquirente uno diciamo degli acquirenti principali del gas questa volta di Eni sempre capo del gado offshore è la BP quindi anche gli inglesi hanno tutto l'interesse diciamo a stabilizzare un'area che per il momento appunto è un'area di grande incertezza quindi ecco io penso che siano questi i motivi che hanno indotto l'unione europea a attribuire direttamente questi 20 milioni di euro all'esercito ruandese per la lotta di capo del gado naturalmente lascio a voi le considerazioni le riserve le critiche rispetto a questa a questa misura a questa decisione che ripeto ha avuto poco poco eco nella stampa italiana ne ha avuta un po' di più in quella belga e in parte in quella francese ma io penso appunto che decisioni di questo tipo cioè eleggere uno stato come il Ruanda come appunto uno dei riferimenti centrali della politica africana dell'Unione europea e soprattutto della Francia questo rappresenta un elemento certamente una scelta politica che dovrebbe essere molto ben ponderata e a mio avviso anche criticata perché ripeto il Ruanda non è un paese molto efficiente ha un ottimo esercito ma certamente non è un modello di democrazia e di libertà di espressione di diritti umani che la stessa Unione europea vorrebbe promuovere o vorrebbe credere di promuovere grazie a tutti un like se vi è piaciuto il video e naturalmente resta in attesa dei vostri commenti grazie a tutti